Ma perché sei ancora vestito così? Dobbiamo fare il si può fare oggi, cioè togliti di quei vestiti Sai perché sono ancora vestito così? Perché? Perché è l'outfit della vittoria, Fere No, 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 no Sì, sì, sì Cara mia, allora Aspetta, aspetta, anche un altro Dato che ho vinto e aggiungo 3 a 2 all'ultimo Che ne è stata una sfida davvero Non è giusto, però no All'ultima battaglia, fino all'ultimo outfit Io non faccio più video di GTA Perché è impossibile che tu abbia vinto, secondo me Ascoltami, ascoltami Ho deciso di darti una ricompensa dato che ho vinto Non mi puoi sparare In questo video non potrai picchiare nessuno E dovrai mandare un bacio a tutte le persone che incontri Ma perché? Quindi niente pugni, niente armi Dovrai dare un bacino così col tuo personaggio A tutte le persone che incontri E il primo a cui devi farlo sono io Dato che mi ha appena pestato Quindi vieni qua, Fere Dai, da brava Su Oh, che brava Ha capito, su Andiamo E ragazzi, come va? Io sono Fere Niki E io sono Stef Che sei che mangiati a 5 E stiamo qui con un nuovissimo episodio del Si può fare Pronti a provare tante cose Vai Stef, elenca Allora, come sempre partiamo dal Cargobob Siccome la seccatura ogni volta andando a prenderlo Ci teniamo proprio pronti Cargobob Facciamo subito le cose col Cargobob E poi ci spostiamo alle altre Allora, nello scorso episodio Quello che abbiamo fatto con Espie e Luca Che è piaciuto tantissimo Abbiamo portato il sottomarino nel lago Ok I consolini giustamente ci hanno chiesto Ma un motoscaffo si può usare in piscina? Eh, in effetti Quindi Però secondo me no Secondo me invece sì Secondo me sì Fere Allora, io sinceramente la volta scorsa avevo qualche dubbio anche sul lago No, invece io ero abbastanza sicuro No, no, no Però una piscina all'acqua molto più bassa Non lo so Lo so Infatti è dura Però il motoscaffo comunque è la cosa più piccola che c'è Che va in acqua Quindi se c'è qualcosa che può farlo è quello Allora Però conto è che il motoscaffo è alto Cioè quindi ci deve anche stare Vediamo, vediamo, vediamo Prima di tutto lo devo prendere ed è difficile Dopodiché parcheggiarlo dentro una piscina Sarà un'impresa Davvero Ancora peggio Complicata Stavo per dire L'ho preso al primo colpo Sono stato bravo Quasi È un bell'inizio Eh, sì decisamente Non ci vogliono dare altri cargo Bob Fere Quindi ho pensato Dato che non possiamo prendere un motoscaffo Utilizzo questo Ovvero il quad Che si trasforma in barchetta Secondo me è più o meno la stessa identica cosa Che poi, allora, trasformato è proprio una sorta di motoscaffo Esatto È praticamente uguale Identico Quindi per me è lo stesso identico test Andiamo a cercare una piscina E vediamo se funziona Anzi, secondo me è più divertente così Perché se tu vai dritto Poi ti butti in acqua e vedi che succede Esatto Esatto, esatto, esatto Questo ci vuole a casa sua Ci vuole ospitare Sì, guarda Mi ha invitato ieri E poi il cancello è anche aperto Guarda, non dovevo fare nulla Esatto, esatto Mica era chiuso Potevamo entrare Andiamo Avete una piscina È più bello È bellissima Sto scherzando Trasformalo Guarda Puoi andare È ovvio Ma te l'ho detto Perché c'è Un motoscafo Può andare in piscina Secondo me no Poi venire a spingermi Dove sei finito? In questa casa? Sì, sì, sì Vieni, vieni, vieni Come faccio? Non ti trovo Fammi vedere Oh, forse ho risolto Aspetta Ma perché hai provato a nuotare lì? Perché? Perché? Volevo farti la battuta simpatica E mi sono incastrato Non sei una persona simpatica Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta E ci vuoi e muoviti Dai No, qua c'è una piscina Guarda che bella Proprio Questa è minuscola Ok, vai Se qui funziona Funziona anche il motoscafo Sì, sì, sì Vai Ok, allora Mi butto dentro Lo aziono No, se si trasforma Guarda È ridicolo Perché non c'è lo spazio Di fare neanche un passo Però va Però va Mi sono ovviamente incastrato È carina questa cosa Non avrei detto che funzionasse Fatemi uscire Oh, riesco anche a uscire Bello, bello, bello Voglio provare una cosa Possiamo distruggere un'auto Soltanto prendendola a calci Uh, questo è bellissimo Però, Cere Dai, dai No, no Tu hai fatto un patto Non puoi dare Allora facciamo così Guarda, guarda Ok Così Sì Così Brava, mi piace E poi così Secondo me non può esplodere No, neanche secondo me Però ti dico che Sta iniziando a far fumo Sta iniziando a far fumo Uh, davvero Non voglio usare mazze da baseball O nient'altro No, no, proprio calci puri Solo calci puri E vediamo se fa Io ti dico che il fumo Lo sta facendo Quindi Non lo so Oh, allora Non lo escludo a sto punto Eh, lo so Nel momento in cui fa il fumo Anche secondo me È possibile Se facci vuole proprio tanto Fere Eh sì Quanti calci Sta aumentando Ma mi sa di no Secondo me no È uguale da quando È iniziato a esserci Quindi Quindi Mi viene da dire No, non fa Però mi rimane un po' di dubbio Anche a me rimane Rimane Mi rimane Sarete quasi tentato Di restare qua 30 minuti Sì, pure io O perlomeno finché non esplode Per il bene della mia essenza Forse è meglio che non lo facciamo Che dici Fere Ci arrendiamo O no Se con la mazza Mi sa che tra il pugno La mazza non cambia Eh, se con la mazza Riesco a farla arrivare A prendere fuoco Ed esplodere Secondo me Fa pura pugni Ma davvero in un'eternità Una roba tipo 20 minuti Se invece Neanche con la mazza Ci riesco In tipo 2-3 minuti Vuol dire Che si può Soltanto Sparando O con bombe E a quel punto Diciamo che abbiamo Sfatato questa possibilità Anche se poi stai facendo Un sacco di scintille Hai visto? Non so se le facevi Anche prima però No, non le facevo Quindi sì C'è questa differenza Che è abbastanza importante Però non so se magari La macchina ha sempre Lo stesso fumo di fatto Più di 100 mazzate Almeno 500 calci Pugni E tutto quello Che si può fare Su una macchina Ancora non esplosa Ragazzi Per me non si può fare Anche secondo me A sto punto 5-6 minuti di calci 2-3 minuti di mazzate Sì 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 Se si può fare È davvero una roba infinita Scusa Fere Lo sai che in tanto mi parte Eh no lo so lo so Mi volevo spostare Perché tanto secondo me Non c'è più Allora quindi questo A quanto pare Non si può fare Certo la certezza Ce l'abbiamo soltanto Se restiamo qua fermi un'ora Però diciamo che Al 90% di possibilità Non si può fare Allora a questo punto Ci spostiamo A che cosa facciamo Ah Io continuo ad ammazzare Fere voglio fare una challenge Con te Allora Girati girati Fai vedere i consolini Che cosa Dai dimmi che challenge Vuoi fare con me Già che c'ero A parte che ci prendiamo l'auto Dai visto che ci siamo Ok dai ormai sì Resiste a tutto Quindi mi sento assicuro Mi ci sono affezionata Esatto Allora questa qua E un si può fare Barra stante Ok Tu sali su un elicottero Vai un po' verso l'alto Ok Io prendo la moto volante Volo verso l'alto Faccio una capriola Comunque poi mi spiegherai Come a calci Hai bucato le ruote Di quest'auto Sì ho bucata io Ho sentito proprio un rumore Vorrei capire come ci sei riuscita Ma me lo spiegherai In un'altra giornata Tu non ci credi che io sono potente Ok E ti dicevo Con la moto Il fumo è davvero tanto Secondo me fa a farlo esplodere Con la moto io faccio una capriola in volo Mi sistemo E ti sparo un missile E ti faccio esplodere Vabbè dai È proprio un stunt Barra si può fare Sì ci proviamo Ti piace? Sì 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 Nel mentre consolini Abbiamo pensato a un altro format Che si potrebbe fare davvero carino E ve lo vogliamo proporre Però ci serve una mano da parte vostra Allora Praticamente io vorrei provare Una sorta di serie di stunt Ok Però in free mode Quindi in giro per la città E presenti i classici video farei Dove fanno gli stunt assurdi Con le peggio cose Eh sì no certo Sono bellissimi quei video Ecco io vorrei da parte dei consolini Diciamo che scrivessero nei commenti Tipo andate in questo punto esatto della città E provate a saltare su questa cosa Utilizzandola come rampa Per arrivare fino a questo punto esatto Ok Noi prendiamo 5, 6 location Mostrando il commento Come con i si può fare Ok E proviamo in un video A superare tutte queste sfide Facendo l'istante Perché Ci sta ci sta Ad esempio giusto per farvi un esempio Cosa ne so Voi corrette totalmente a caso Utilizzate questa aiola come rampa Volate E fate di stunt E vi schiantate nel muro Io adesso Mi sono schiantato come sempre Perché qua non si può fare un vero e proprio stunt Però ci sono tanti posti In mezzo alla città Che fanno la rampa E che permettono di fare cose incredibili Vado Steph Ok Ok Allora Ricapitolando Non troppo Più o meno così Un po' più Dai un po' di più Un po' di più Dai Allora Io devo volare Andare verso l'alto Fare una capriola E sparare un missile su di lei Ok Ta Ta Capriola Ok Mi giro Troppo in alto Ok Quindi devo volare Ancora più tardi Sono salito nel tetto E scendo pure Tutto insieme Che stunt Ok Devo farlo ancora più tardi Perché ero ancora troppo in alto Provo a salire un po' di quota Vado Ok Allora Sì 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 Ok Dovrebbe andar bene così Vado Ok vai Allora Corro 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 Faccio così Vai 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 capriola Ci sei adesso Ho fatto una cosa più difficile L'elica è vero Di quella che dovevamo provare L'elica Ho preso la tua elica in pieno Fere Ok Steph Ok Buongiorno Buongiorno Possiamo Salve Possiamo entrare No non mi sembrano molto convinti Steph Ti sta puntando l'arma contro Non possiamo No non puoi Steph Allora Ho un piano Dove ci siamo incastrati Non lo so Non vedo Io sono nella torretta Quindi non vedo niente Cioè vedo solo di fronte Non posso E' diventato Riusciamo ad entrare Con il John Trump L'attivo mobile A forza Ho detto che non si può entrare Perché il problema è che le entrate Sono bloccate E ci entri volando Di solito Però volare con sto coso Non me la sento Non puoi volare con questo E quello è il problema Che ti dicevo E fin dall'inizio Come riesci a entrare Forse si Forse si fare Perché comunque corre No non lo puoi fare Mio mattissimo furgone Riesce a scalarci Questa bellissima montagna Non ce la va Servirebbe un po' di gente Che lo spinge Magari se la polizia Ci dà una mano Non credo Farebbe comodo Polizia Venite qui Magari non me ne va bene una Oggi fare Ma almeno non mi arrendo Questo lo devi apprezzare Non ho idea di quanto Ci ho messo a scalare E lo so Sono qui con te Quindi lo so bene Va bene Ci siamo girati Adesso devo prendere velocità Senza cascare Prima dalla montagna Prendere la rampa E andare dritti Aspetta Aspetta Stiamo già cadendo Abbiamo buttato Tutta la nostra occasione Esatto Ci ho messo Tipo dieci minuti A salire lì Io ci riprovo Allora L'unica cosa importante Non è andare veloci Ma è non sbandare Quindi adesso sto pensando Più o meno Perché se non è velocità Non è che Perché accelera la fine Fere così Ok Fere Ce la facciamo? Dimmi di sì Siamo dei grandi Vai 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 Allora Adesso andiamo a distruggere tutto Su Forza Sono entrato Mamma mia Mamma mia Tu hai detto che era la giornata Dei fallimenti Ma è quella risposta No io sinceramente Sinceramente Quando ti mi hai detto Entriamo col centro operativo Dentro a Forza Ancudo Io ho detto No è impossibile E invece Perché poi ricordiamoci Che col Cargo Bob Noi avevamo provato Puoi prendere solo la parte di davanti Esatto Quindi non potevamo in quel modo Il centro operativo Quindi ho detto No non ce la faremo mai Ripeti insieme a me Nulla è impossibile per Steph Nulla è impossibile per Ferenichi Allora Adesso inizio a fare un po' Ok vai 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 Qua posso sparare Tu mi hai detto che non potevo dare i pugni Poi da qui non li posso mandare i baci No no vabbè Adesso è anche il mio permesso Cioè dobbiamo fare quello Dobbiamo vedere Se loro in qualche modo Quindi i militari Teoricamente è la forza Più avanzata Che può esistere In un mondo Possono contrastarci Col centro operativo mobile Ma cosa vuoi fare tu? Perché io ho paura Che a te prendano Allora A me certo che possono prendere Eh però Per me sono un po' indecisa Per ora ti porto in giro E ti faccio sparare Ok Ok Quando io muoio Tu continui semplicemente a spararli E vediamo se trovano il modo Di abbatterti Ok perfetto Perfetto Secondo me no Nel momento stesso In cui sono entrato Nel centro operativo mobile Ho perso le 5 stelle Ok No 4 mi parla No no erano 5 Erano 5 Ok Anche io le ho perso Adesso stiamo dentro Forte Zancudo Con questi che ci lasciano in pace Noi che possiamo sparare I missili ovunque E credo che Direttamente tipo Non reagiscano Cioè non reag Cioè Allora è un'antistellina Di polizia Questo Ma non solo Eh Io sto provando a sparare Capito Per cercare di attirare l'attenzione Aspetta 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 Ah ah Ho una stellina Ah ok anche io Ho una stellina Quindi almeno stiamo riuscendo a recuperarle Perfetto Vediamo che cosa fanno Beh ci dovrebbe Ok vedo qualcuno che cercava di venirci addosso Lo faccio esplodere subito Così si arrabbiano E mi aumentano le stelline Tu quale torrette hai? Io ho la torretta dietro Una di quelle due di dietro Ok perfetto Quindi riusciamo almeno a coprire davanti e dietro Esatto 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 Continuiamo a far esplodere tutti Io ho fatto esplodere tutti E dalle telecamere cerchiamo di capire Se trovano o cercano comunque Quanto meno di sconfiggerci Secondo me no Fermano Perché da me stanno andando tutti dritti Credo che stiano sparando le torrette Ok Ok Allora guardo il tuo schermo perché da me non stanno facendo niente Continuano ad andare dritti da davanti Vanno dietro da te Ok Ok che succede? Oh ci sparano E ti è successo qualcosa? Sei ferito Allora vita persa Zero Il discorso è questo Dopo un po' In qualche strano modo Riescono a distruggere il centro operativo mobile O osserviamo Questi militari Che ci sparano Per tutto il resto della loro vita Lasciali fare che vediamo Ok ci sono anche da me Allora stanno sparando anche davanti Guarda lì Ciao belli Come state? Io li sto guardando Bene che ci dici Settaci un like E se è una volta che avete il nostro video Potete considerare lì Di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 ciao